io prendo il quad prendo il quad no me l'hanno preso mamma mia oddio bella mascaro fatela fatela clippetta quando lo allivellate ragazzi io ieri quando sono uscite quando sono uscite non salivano di livello ero con power pib curva e l'abbiamo messo ma non saliva di livello non si sa perché poi ho smesso di giocare sanno dove sono sanno dove sono tre sono 31 noccato sono che è poco che è poco di gioco che è poco questo guarda davvero mi sono rotti coglioni o chiede lasciati dove è l'altra uscita ragazzi perché mi hanno dato la poste mandare ragazzi guido io ho preso la patente nautica tranquilli ragazzi facciamo il fuori vai ea segue la cosa bella senza rimorso senza rimorso visto troppi ti dico no vabbè ragazzi non mi preoccupare ho sempre voluto farlo cazzetti verso squartetti è quelli siamo nella zona sicura beh legge questa qui è ho sbaglio leo certo che ho legge chiama la digos ma sti nomi bravi oh yes baby let's go baby let's go porco diavolo un altro bicchiere figo otto bombe quando le avete fatte va bene ma questo chi è questo chi era per caso il papà del felon bush l'hai sentito bush 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 l'hai sentito cos'è che ti ha detto mi diceva che parlava la voce alta eh vabbè meno male che la bottiglia non l'ha vista ragazzi se vedeva quella bottiglia di pistacchiello mezza vuota aspetta fammela togliere questo è il bicchiere raga si beve leva la web vai diretta ti bannano ma non puoi parlare tutta la notte non puoi parlare tutta la notte cazzo ci sono finito a prendere ma per che è andato il segno di eh perché uno l'ha noccato non mi ricordo peccato i tasse comunque l'ho guardo a casa mamma ragazzi che peso che siete fatemi una cazzo di vita e staccatevi dalla letta della mamma mamma mia e svegliatevi con la cravatta domani perché sono veramente buonasera manna buonasera a tutti raga tantissimo se vi trovo madonna bravo questo bornax bornax io farei partire un bel morte abbonamento e regalo al buon vecchio bornax che finalmente dopo tanti tentativi è riuscito a vincere eh infatti pronosticate ragazzi votate votate 30 secondi rimanenti ragazzi massimo sono fortissimo c'è un papi mugnano al massimo ho visto che sono sgravissimi ah faro che cazzo è faro orco 2 che shot che shot ho capito ma ho fatto una cosa non c'ho se uno è ferito l'altro io sono a terra arrivo io arrivo io aia non ci credo arrivo io arrivo io con gli occhi è esplato davanti io palmentazione una bellissima son morto non ci credo che cazzo avete preso insano questo pisello scusami oh sta granata di chi è? sta granata di chi è? no 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 ricarica ho una granata ricarica ho una granata no 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 sotto sotto raga però riesci a potersi mi riesci senti il diritto di dover rompere il cazzo con la scusa della eh ma la libertà di parola aaaaaa io non entro in casa tua da la puttana a tua madre poi dico che è libertà di parola esatto senti andiamo sulla diga scusate mi era partita l'altra personalità ma tranquillo per me ci stava tutto come esempio soprattutto